Bene, buona serata, grazie, grazie per essere qua e alla presentazione di questo libro di i figli che non voglio di Simonetta Shandivashi che è la mia collega quindi è una roba abbastanza incestuosa a proposito di figliolanza eccetera eccetera. Lei è la protagonista quindi lascio tra pochissimo la parola a lei. Due parole su come questo libro è nato perché essendo collego ho assistito diciamo alla genesi di questo libro. Tutto è partito da un articolo di Simonetta che a un certo punto è partito anche in realtà dalle nostre riunioni, queste riunioni dove c'è l'eterogenesi dei fini, dove l'eterogenesi delle stupidaggi, dove si mescono tante cose e poi alla fine nasce qualche idea buona. L'idea buona era questa, cioè Simonetta a un certo punto dice ma io farei un pezzo, appunto si dibatteva sull'essere male o sul non essere male, la voglia eccetera eccetera. Lei dice ecco io sono una ragazza di 35 anni in grado di poter avere dei figli e ho deciso di non averli. Sembra per lo meno dentro di me dico ecco questa qui è la scoperta dell'acqua calda, anche perché io arrivo da una generazione, insomma mi ricordo quando io ero ragazzino, questo grande bestseller della Fallaci, lettera a un bambino mai nato che affrontava questo problema e dico boh 50 anni dopo e passa che senso ha ancora dibattere di queste cose. Guardavo dall'alto in basso la mia collega millennial e dici vabbè eccetera eccetera. E invece questa sua presa di posizione diciamo caparbia, volitiva, lei che parla in prima persona anche infrangendo quelle che erano le regole del giornalismo di una volta, quando tu entravi a fare questo mestiere dico mai usare la prima persona, adesso le cose sono un po' cambiate, comunque lei la infranto volutamente, no io non voglio avere figli, sono questo eccetera ecco questa cosa appunto che io guardavo un po' dall'alto in basso, ma sai che cosa nel 2000 una roba scontata, avere figli o avere figli eccetera eccetera, in realtà ha suscitato un dibattito molto forte, ha raccolto in maniera molto naturale e spontanea un sacco di contributi di colleghe sia scrittrici che non che avevano la loro da dire ovviamente chi a favore e chi contro. L'idea di Simonetta cioè io li voglio o non li voglio eccetera eccetera, con molteplicissime sfumature come infinitamente sfumata è il senso della maternità. Tutti questi contributi sono raccolti qui dentro in questo libro, quindi chi di voi lo leggerà avrà la possibilità di entrare in questo dibattito che appunto ha mille sfumature perché molto difficile è questa scelta che appunto io davo per ascoltato in realtà non lo è. Io lascio subito la parola a Simonetta ma per dire una cosa, per dire una cosa che in realtà, cioè lei dice io la mamma no non la voglio fare eccetera eccetera, in realtà io ho avuto la prova regina oggi che mentiva, la prova regina, quella dei crimini eccetera eccetera, perché a un certo punto io sapeva che sarei venuto a presentare questo libro e mi ha detto mi raccomando vestiti bene, ecco questa è la frase che mia madre mi ha detto per 10, 15, 20, 30, 60 perché io ho 62 anni eccetera, ogni giorno mi raccomando vestiti bene. La classica frase che dicono le madri, quindi Simonetta ha mentito, lei è una mamma, vuole essere mamma e ha tentato di essere mamma. Io naturalmente non mi sono vestito bene perché quello che mi diceva mia madre non lo volevo, insomma quindi non è vero, tu vuoi essere mamma. Ecco Simonetta allora raccontaci cioè perché questa è il punto che mi sembrava una cosa davvero così scontata, cioè nel 2020 il femminismo e comunque il cambio della società eccetera eccetera, questa cosa effettivamente questo tema è ancora così importante. Grazie Bruno. Grazie Simonetta. Figlio, figlio mio, figli miei. Innanzitutto buonasera, grazie di essere qua e io ringrazio molto Bruno perché non siamo colleghi, Bruno è il mio capo e anche maestro e quando io ho scritto questo articolo ero arrivata alla stampa da un mese e poco più, quindi è stato complicato anche per quello perché è vero che qualche regola l'abbiamo infranta ma io avevo il mandato di quando Giannini mi ha detto vieni alla stampa, mi ha proprio detto vieni a rompere le scatole, cosa che insomma io ho fatto nella mia vita precedente molto sbagliando molto spesso ma insomma poi prendendo una quadratura differente. Sul tavolo in quei giorni è vero quello che dice Bruno c'era la questione della denatalità e il punto era provare a raccontarla da un'angolatura diversa, quello che io avevo a cuore non era parlare dei fatti miei in realtà e neanche andare ad indagare per rivendicare le ragioni delle cosiddette childless o child free che sono tutte parole orrende come sugar free, quelle cose terrificanti. Io volevo essere molto pragmatica, cosa che anche se ero arrivata da poco alla stampa ho imparato essere molto importante. Io venivo da un giornale di solo pensiero che molto spesso più che raccontare il mondo raccontava la sua idea di mondo e invece la stampa per me è stato questo salto, cercare di raccontare la realtà così com'è e volevo che lo sguardo sulla denatalità che è effettivamente anche un problema assumesse un tono diverso e uno sguardo diverso perché se noi la denatalità la guardiamo soltanto come dramma allora continuiamo a ripeterci che è risolvibile iniettando le politiche di questo paese di accortezze che speriamo prima o poi arrivino. Però c'è una questione che io credo sia evidente a tutti e cioè che questo problema prima che essere un problema è un fatto socioculturale del nostro tempo. La denatalità arriva anche come conseguenza del fatto che fare figli è una scelta, che fare figli non è un destino, che il destino delle donne come dice Natalia Aspesi è vivere e non fare figli e allora questa cosa dobbiamo cominciare a guardarla perché credo che se vogliamo costruire come dobbiamo costruire la società del futuro forse dobbiamo tenere a mente che esiste una minoranza di persone, credo destinata a restare minoranza ma comunque crescente, di persone che i figli non li vorranno e non li faranno e non c'è modo di convincerli con delle politiche accoglienti nel fare famiglia. Io volevo soltanto dire questo perché penso che viviamo un momento, lo attraversavamo allora, lo attraversiamo tuttora, di ridefinizione delle nostre strutture, delle nostre sovrastrutture sociali e politiche. Io ho 37 anni, grazie per avermi dati 35, in realtà sono 37, ma all'epoca del dibattito ne avevo 36, comunque va bene, purtroppo il tempo passa, però ecco, più o meno da quando sono nata sento raccontarmi che il sistema non regge, sì certo che non regge, allora lo dobbiamo cambiare. Il mio terrore è sempre questo qui, di retrocedere, fare delle politiche che ci mettano nella condizione di perpetrare il sistema precedente a noi. Invece è successo qualcosa di diverso e noi dobbiamo cercare di fare in modo che le nuove strutture della società siano accoglienti non solo rispetto al fatto che ci sono scelte diverse, ma rispetto al fatto che le scelte cambiano, la nostra vita si allunga e allora queste sovrastrutture più che essere, diciamo, delle barriere come sono sempre state, per cui i ruoli definiti che durano tutta la vita devono essere un volano. Io lo immagino così, il futuro che vorrei. Ecco, il mio intento era questo qua e invece poi è successo qualcosa di più. È successo che è vero, io ho scritto il pezzo in prima persona perché credo che a volte i giornalisti debbano spendersi in prima persona. La grande elezione dei giornali americani è questa qui, soprattutto dopo la crisi dei mutui subprime, quando è iniziata la vera grande crisi delle grandi istituzioni, tra cui anche i giornali, non ci fidiamo più della vostra mediazione, di tutti gli organismi di mediazione. Allora come l'hanno superata questa cosa i giornalisti americani che sono un po' più attenti rispetto a noi su certe cose? Mettendo il mi. E quindi io volevo che questo pezzo fosse in prima persona anche perché avevo il piacere di essere osservatrice e testimone nello stesso tempo e in verità quella cosa lì, quelle parole lì, il dire non faccio figli anche se posso farli e questo non mi dà dolore, ha scatenato un meccanismo che è un po' problematico quando si tratta di letteratura ma forse di giornali no e cioè l'identificazione. Molte donne si sono sentite raccontate. È vero quello che dici tu Bruno che non abbiamo scoperto l'acqua calda, però forse la forza di quel pezzo era anche nel, oltre che nella prima persona, nel tono volutamente sereno che io ho adottato perché la scelta o il caso o il fatto di non fare un figlio non mi dà dolore. A me non è successo quello che Chiara Francini ha raccontato sul palco di Sanremo, immagino che tutti quanti l'abbiate visto o sentito raccontare e infatti lei è stata molto contestata per questo. Più in generale a me interessava anche dimostrare che le donne, quando dico donne ti guardo sempre con un paio di... che le donne non le dobbiamo ascoltare soltanto quando hanno una voce dolente e parlano di un'esperienza traumatica. In generale poi questo è un tempo in cui si tende a credere a chi ha avuto un problema e chi ha una ferita. Ci sono anche le persone normali, con vite normali, con voci normali, che vanno ascoltate e che possono aiutarci a ridefinire i nostri ruoli. E quello che poi ho notato e che sto continuando a notare, perché questo è un libro che ha una vita affascinante, lunga, che prosegue negli interventi delle persone che continuano a scrivermi quando l'ho letto, è che in realtà esiste un desiderio forte di genitorialità. È vero, io ti ho detto vestiti bene come una mamma, così come dico ai miei amici che cosa hai mangiato. Voi lo sapete che Elsa Morante diceva sempre che la cosa migliore che è la più alta forma d'amore è chiedere agli altri che cosa hanno mangiato. Ed è una cosa che io faccio, ma ti contesto l'idea che questo faccia parte della maternità. Perché l'altro problema culturale, io credo, che c'è in questo paese, ma in tutto il mondo, è pensare che l'amore supremo è quello materno. Ed è per quello che se tu non hai e non provi l'esperienza della maternità sei un individuo manchevole. Invece non è così. Molti lettori mi hanno parlato di un desiderio di generatività che è un affluente forse, o una cosa a parte, ma molto simile alla genitorialità. Sentirsi partecipi del futuro del mondo, coinvolti dal destino del futuro, propositivi e operosi, anche se non si hanno dei figli. Sì, dunque, i temi che tu hai toccato sono ovviamente tantissimi. Si potrebbe parlare all'infinito di tutto questo. Ma quello che a me colpisce è proprio la questione generazionale. Io sono nato negli anni 60, ero ragazzo negli anni 70, quindi la generazione immediatamente dopo il 68, quindi quando il femminismo arriva potente anche nella nostra società, la scardina, si scardina la struttura anche tradizionale della famiglia col matrimonio, perché arriva poi il referendum sul divorzio, eccetera. Cioè io sono figlio di un'epoca che ha portato il femminismo in primo piano. E per me, avendo frequentato il liceo in quegli anni e avendo l'esperienza di collettivi femministi, assemblee, praticamente la questione di ogni settimana, cioè chi è stato ragazzo negli anni 70 sa di che cosa parlo. Ecco, dico, questa questione della proprietà del proprio corpo, cioè che il corpo è mio e anche è mia la scelta della maternità, ripeto, io la davo per scontata. Quello che mi ha colpito è che due generazioni dopo sostanzialmente, tutto questo fosse ancora da ridiscutere, da riaffermare. Cioè tu mi dici, molte donne, leggendo il mio libro, hanno capito proprio nella carne, nella pelle, quello che io voglio dire, no? Cioè in questo senso che se tu non fai figli, sei una donna in qualche modo mancata, tra virgolette, eccetera, eccetera. Ecco, quello che mi stupisce è che dopo tutto quello che noi abbiamo vissuto, questa cosa sia ancora presente, cioè nonostante i grandi cambiamenti che comunque nella società sono avvenuti. Allora, quello che mi chiedo, è un problema della vostra generazione, cioè diciamo i millennial, dei trentenni, eccetera, eccetera, che in qualche modo devono riappropriarsi di qualche cosa che per noi era dato per scontato e che evidentemente si è perso nella chiacchia, nel chiacchiericcio degli anni 2000? Ma è una domanda, è un dubbio, Simonetta. È un dubbio intelligente e legittimo. Credo che per risponderti... La prima cosa che mi viene in mente è che di certo la mia generazione ha un problema con i ruoli. Nel senso che, a differenza di quelli che sono arrivati dopo di noi, i ventenni e i ruoli, dei ruoli si sbarazzano tranquillamente, sono proprio la generazione del sé, noi un pochettino la nostalgia del ruolo, dell'ideologia, del tuo posto nel mondo, dell'eredità, di quelli che hanno fatto meglio prima di te, ce l'abbiamo avuta. E almeno da quello che io ho osservato e che posso dire su di me che la maternità ti desse un'identità, io continuo ancora un po' sotto sotto anche a pensarlo. Certo non vale per me, però è vero che la mia generazione che si è vista, come dire, prima prospettare un sogno, un modo di realizzazione, e poi l'ha visto crollare, allora forse ha cercato il ruolo, è il ruolo più semplice, o no, semplice è una parola sbagliata, mi scuso, però più immediato forse è quello del genitore, perché si tramanda, si tramanda banalmente. Allora forse è questo che si è interrotto, no? Dopodiché, Bruno, io penso, e nel libro l'ho scritto, che non è affatto scontato, è vero in assoluto quello di cui io scrivo, e cioè che poi non fare un figlio, non ti porti a frequentare il dubbio e il vuoto, tutte queste demolizioni dei ruoli, io non sono così sicura a che non portino a creazione di nuovi ruoli, altrettanto, come dire, stringenti e condizionanti, e B, che stiamo negando qualcosa che fa parte di noi. Credo che questo però, che questa sia una fase, proprio come tutte le fasi di ridefinizione, anche una fase di distruzione. Forse è la fase di distruzione che non era arrivata nella tua generazione, forse la vostra è stata più una messa in discussione. Poi sulle ragioni per le quali quello che è successo negli anni 70, diciamo, non ha trovato poi forma in noi altri, che siamo venuti dopo, potremmo parlare a lungo, ma forse, forse, non è questo, non è questo il caso. Mi viene in mente una cosa che mi aveva detto Cristina Comencini, l'avevamo intervistata sul nostro giornale, quando le avevo fatto un'obiezione di questo tipo. Perché il femminismo procede così, no? Ci sono delle fasi in cui sembra quello che dici tu, che ridiscute tutto e dà una nuova forma alla società e alla politica, e poi si inabissa e tutto torna, se non indietro, però tutto torna a fermarsi. E lei mi aveva dato una risposta abbastanza incredibile per me, cioè mi aveva detto, perché a un certo punto le donne si devono fermare per fare, per vivere. E quindi si devono occupare del loro benessere, delle persone a cui vogliono bene. Ed è per quello che forse anche, no? C'è questo rallentamento rispetto alla tua generazione. Poi c'è un'altra questione che io credo che la maternità e la genitorialità, perché poi essere genitori noi parliamo di essere genitori, dovremmo parlare di essere genitori, però in questo momento qua ci permette, in maniera forse più efficace e diretta, di istruire il discorso, il grande discorso, il grande tema del nostro tempo, che è quello sul desiderio. Chi siamo? No? Quello che desideriamo è indotto oppure viene davvero dalla nostra volontà. Ecco, io credo che questo dibattito è stato attoccato le persone da vicino, perché in fondo le ha portate in maniera molto pragmatica a interrogarsi su chi sono e sugli elementi da cui derivano l'identità. Che succede quando, io l'ho vissuto, nel senso, io vengo da una famiglia di genitori boomer come te, un po' più grandi di te, però insomma, che hanno fatto gli anni 70, mia mamma ha fatto il femminismo a Ferrandina, che non era così semplice, Ferrandina è un piccolo paesino vicino Matera, profondo sud, mio papà è un uomo di super sinistra, insomma, però io a lungo ho pensato che avrei fatto dei figli, perché così doveva essere, pur essendo la figlia di due demoni, di due demoni, proprio due demoni sono stati i miei genitori. E quando è successa questa cosa dentro di me, io invece mi sono resa conto che io, come tutti noi, avevo sgomberato il campo delle libertà possibili da una libertà indotta, una scelta indotta, che cosa succede quando tu togli questa cosa qua che ti hanno detto che è tua per forza, che trema tutto. E questo tremo, la novità Bruno, credo che sia questo, nella capacità delle donne in particolare in questo momento di accogliere quel tremore, di saper vivere nella solitudine che deriva dalla scelta di non avere un ruolo definito e soprattutto di saper vivere nell'indefinitezza. In fondo il fluid è questa cosa qui, no? Non è siamo tutti uguali ma siamo tutti diversi e questa diversità si può esplicare in molti momenti della vita, si può cambiare idea molte volte, fallimentare o meno che sia è questo che stiamo vivendo. Sì, anche qua i temi sono enormi di discussione. Pensavo tante cose ovviamente perché il tema della maternità, della genitorialità ovviamente innesca tante cose dentro di noi, innesca ovviamente perché fa parte diciamo della vita, no? Freud pensava che appunto le nostre pulsioni, cioè le nostre paure, le nostre forze sono la paura della morte e quella è la pulsione della sessualità che poi è il perpetuarsi della vita, no? Che per Schopenhauer è una maledizione assoluta ma comunque è quella roba lì. No, ci pensavo il mio discorso chi nasceva nella mente è un po' più complesso, cioè allora noi pur essendo una società estremamente patriarcale, cioè la nostra sicuramente molto maschina, molto maschilista eccetera eccetera però in realtà ha questa enorme cappa iconica simbolica che è quella della maternità, cioè se noi pensiamo alla nostra religione che la figura maschile non esiste, cioè il padre non esiste, anzi probabilmente non è neanche un padre, esiste soltanto la madre, questa madre che soffre, questa madre che allatta, questa madre che porta in salvo eccetera eccetera quindi pur essendo una società estremamente patriarcale noi nasciamo sotto il sigillo simbolico della madre, il padre è assente, è il grande padre che nei cieli nessuno ha mai visto, anzi ci si chiede se c'è, se c'è abbandonati eccetera eccetera, quindi questo è già come dire una determinazione simbolica della nostra mentalità perché ognuno di noi è figlio sia della lingua sia della cultura della lingua che parla sia della cultura nella quale nasce. Quindi partendo da tutto questo c'è sulla maternità e poi sul ruolo della paternità appunto perché io ho dovuto scegliere la vita non di essere madre ma di essere padre e io come tanti altri maschi della mia generazione ma non solo ecco la paternità si scopre che è una questione soprattutto cioè mentre la maternità ha un problema che tu ti poni dentro cosa siamo eccetera eccetera anche per noi comunque l'idea del pater familias della continuità di una famiglia di un cognome ce l'abbiamo anche se si è anacquata delle cose del genere però mentre appunto la maternità è una roba fisica concreta di carne cioè alla fine per quanto vogliamo cambiare le cose fluido eccetera eccetera però la maternità è avere un figlio dentro che ti cresce che tu senti giorno dopo giorno che assorbe il tuo sangue poi ci sono anche queste cellule che rimangono dentro per sempre c'è questa ricerca scientifica meravigliosa che ognuno di noi si porta dentro le cellule della madre vita naturale durante il padre è una cosa molto diversa il padre è una questione culturale addirittura il padre potrebbe anche non essere padre ecco senza scendere diciamo nel boccaccesco della commedia italiana di serie B cioè il padre potrebbe anche non essere padre quindi è proprio una questione culturale però questo appunto vivendo questa questione da padre che è una roba molto diversa meno viscerale meno carnale meno di destino il problema però che io mi ponevo è forte cioè mettere al mondo un figlio mettere al mondo dei figli decidere di di mandare avanti la vita al di là della retorica depurando di tutto quello che è la retorica che effettivamente non ha senso è però una scelta di condivisione cioè quello che io alla fine volevo dire guardandolo dagli anni dall'alto dei miei anni di sessantenne e che vedo quando tu dici le donne l'autodeterminazione certo eccetera però alla fine il decidere di non fare figli ti porta quasi necessariamente a un destino alla fine di solitudine cioè non è soltanto il non fare figli no? è un problema poi di solitudine primo perché rendi diverso il rapporto con il tuo partner o con la tua partner non importa perché cioè non importa la questione di gendere eccetera eccetera però lo rendi diverso sicuro questo e secondo perché ti viene a mancare questo cioè appunto la solitudine perché non hai un figlio allora la domanda è questa ecco voi trentenni voi generazione trentenni ci volete uccidere tutti quanti ma questo non è ma questa non è una novità è sempre successo no? ai tempi di Abramo Isacco queste cose qua no? cioè però lì era il padre che uccide il figlio e invece voi ecco ma voi trentenni che ce l'avete che non ci volete muovere ma io vado per i 40 non ti fa succi ma perché tutto spostato in là è tutto spostato in là ecco ma ecco quello che vedo e forse e forse sto sbagliando e c'è anche questo problema enorme di solitudine cioè di parcellizzazione delle vite no? venendo ok domanda ma anche problematica non so questo è un bel problema certo però le donne che hanno avuto figli e che hanno avuto grandi famiglie io vengo da una grande famiglia numerosa non i miei genitori i miei genitori hanno avuto solo me ma casa nostra è un porto di mare tutti io ho un sacco di cugini mia nonna ha fatto dieci figli l'altra nonna sei insomma siamo numerosi le donne anche che più più avanti di altre generazioni che hanno fatto dei figli non è che la solitudine l'hanno vista e frequentata e soprattutto ho molta paura di chi fa figli perché perché teme la solitudine detto questo di certo la mia è una generazione e quella dopo la mia ancora di più che come come dicevo ha un rapporto meno conflittuale con la solitudine o quantomeno non la cancella quando la vede arrivare la accoglie io non lo so se è per individualismo non sono così sicura che la vita solitaria sia una vita di agevolazioni è una vita e nemmeno che sia una vita come si raccontano quelle che non hanno figli che sono sole fanno tutte siamo tutte come Dorothy Parker che andava per festini e scriveva pezzi magnifici tra l'altro Dorothy Parker insomma era una della problematicità dell'esistenza ha anche scritto però non è vero questo mito delle donne singolo senza una struttura familiare così come l'abbiamo immaginata che se la spassano così come non è vero che soffrono sono semplicemente individui che sono inseriti nella società in una maniera diversa la solitudine è vero che si sente ma anche le famiglie sono sole per questo io prima parlavo di generatività noi viviamo in una società dove i figli sono solo della famiglia nucleare e tutti quanti quell'intorno non se ne occupano le famiglie le madri i padri sono lasciati da soli allora mi domanda te la faccio io la domanda Bruno sapendo di non averti risposto in maniera esaustiva perché io davvero su questi temi ho soltanto dei dubbi e non voglio tra l'altro penso che il nostro lavoro questo sia fare domande più che più che dare delle risposte però la cosa te la te la ribalto non è invece forse più importante cominciare a immaginare un mondo dove genitori siamo tutti e e le famiglie sono una sorta di società anzi di comunità tutti portano quello che sono io porto quello che sono non una madre con dei figli ma una donna sola e tu che sei accanto a me ti senti responsabile anche della mia felicità non per forza perché tra me te c'è un legame di sangue lo so che sono discorsi utopici però secondo me noi andiamo verso questa cosa qui per esempio non pensiamo mai a cosa succederà e questo è terribile noi pensiamo sempre ai bambini che dovrebbero nascere e ci pensiamo così in maniera retorica senza poi prendere le giuste misure e contromisure però non pensiamo mai al fatto che le persone come me ammesso che io poi non avrò dei nipotini che si prenderanno cura di me e chi lo sa però le persone come me avranno una vecchiaia di non solo solitudine ma di abbandono così come sono abbandonati gli anziani già adesso ecco perché dicono che poi questo tema chi se ne frega che dobbiamo togliere un tabù il tabù non c'era ma questo tema qua ci permette di prendere le misure del mondo che sta venendo e che verrà e che non penso che si potrà ancora reggere sui nonni no? allora forse quando parliamo di solitudine è vero sì la mia non è una generazione così capace di costruire famiglia perché non siamo così capaci di pensarci all'interno di una coppia non siamo così capaci di rinunciare perché stare in una coppia così come ci è stato detto fino a questo momento è anche una rinuncia è un sacrificio di una parte di sé del resto ci dicono anche che la democrazia è fondata su un'alienazione di una piccola parte di tutti noi ce l'hanno raccontato chissà se è vero poi no? o se non saremo in grado di cambiare questo elemento di alienazione che ci permette di stare in comunione comunità con gli altri perché l'altro in realtà forse lo dovremmo iniziare a vivere non come limitazione ma come possibilità di superare la limitazione e siccome questi gangli culturali non li abbiamo risolti e sono esplosi sì la mia generazione forse ha deciso di non assumerseli addosso e per cui sì meglio una solitudine come dire consapevole che invece una solitudine è indotta perché hai fatto una scelta per evitare di guardarla poi che la mia la mia generazione non sia capace di fare un passo indietro davanti all'altro è ancora tutto da dimostrare siamo diventati adulti molto tardi e io questo non lo so e non lo so se non fare famiglia dipende anche da questo però non sono nemmeno così sicura che il non fare famiglia in modo tradizionale dipenda dal non avere fiducia nel futuro questa è un'altra cosa che si dice molto spesso i figli fino a questo momento si sono fatti sempre nei periodi di maggiore ricchezza benessere e quindi fiducia mi piacerebbe immaginare un'umanità che invece poi impara ad avere fiducia nel futuro anche quando le condizioni e le congiunture sono pessime e soprattutto mi innervosisce un po' stare dentro questo disegno io non voglio figli è vero ma non sono non li voglio non perché non c'è un futuro rosio ad aspettarli non perché voglio che l'umanità finisca o perché me la voglio godere però di certo penso che forse una cosa che dobbiamo imparare a fare è pensare al presente pensarci anche come individui desideranti felici e che mangiano la vita in questo momento sono un po' stanca dell'idea di sacrificio e dell'idea è addossata al sacrificio dell'idea di rinuncia se quello che stiamo dicendo adesso fa parte soltanto di una generazione e se questa generazione può permetterci di vedere alcuni vizi culturali da scardinare ne sono ben contenta ripeto credo davvero che stiamo parlando di una situazione momentanea sì questo qua sì poi solo chi vivrà vedrà semplicemente parlavi ecco comunque la constatazione è che noi vediamo perché gli effetti dello sgretonamento della famiglia tradizionale lo sgretonamento della famiglia tradizionale che è uno sgretonamento anche dei luoghi fisici della famiglia perché appunto uno delle caratteristiche noi la stiamo forse io incomincio a vederla perché sono già figlio di una generazione che aveva incominciato a diciamo a sgretolarla ma per esempio ecco lo spettacolo tu parlavi della vecchiaia lo spettacolo di questi anziani ma io lo vedo perché esperienza direttiva mio padre si è rotto l'anca ho dovuto portare una struttura per riabilitarlo eccetera eccetera ecco girare in queste strutture dove ci sono tutti questi vecchi comunque parcheggiati lì no parcheggiati lì ma non perché non ci siano dei figli o dei nipoti che che in qualche modo siano morevoli perché non è neanche vero questo più o meno vanno ma perché è venuta meno quel luogo fisico della famiglia cioè io ricordo ancora dei miei nonni che hanno passato da loro che sono morti in casa sono morti in casa perché le case erano fatte per accogliere comunque anche i nonni erano delle case grandi avevano degli spazi cioè più o meno grandi a seconda poi ovviamente delle disponibilità economiche ma anche anche i più poveri insomma cioè i stati più bassi della popolazione vedevano che ci fosse un luogo fisico della famiglia che accoglieva tutto ecco questo assistere invece a questa disgregazione anche dei luoghi fisici porta a un'idea secondo me al di là di ogni considerazione comunque di grandissima tristezza perché poi la solitudine la solitudine e la morte da soli è estremamente triste cioè una considerazione al di là di tutto che non ha a che fare con la scelta della maternità eccetera eccetera ma ha a che fare con la frantumazione delle strutture elementari della parentela per usare un termine Levi-Strosse cioè se l'umanità in 50 100 mila anni di storia ha elaborato un modello per mettere insieme femmine e maschi padri e figli madri e figli eccetera eccetera vuol dire un senso naturale a tutto questo un senso naturale c'era è vero che ci sono stati dei filosofi tipo Platone che pensavano che la famiglia fosse in realtà un male un maleficio che dove essere disgregata a favore dello Stato ma anche lì però c'era un modello alternativo Platone diceva nella Repubblica i bambini devono essere strappati alle madri giustamente perché se no le madri ti dicono devi vestirti bene devi mangiare eccetera eccetera due coglioni invece no i bambini devono essere affidati ai filosofi che ti insegnano invece il bello il brutto il bene eccetera eccetera e non come ti devi vestire ecco però era un modello come dire sebbene utopistico comunque alternativo noi questo modello non siamo noi occidente noi occidentali questo modello o perlomeno una parte dell'occidente opulento questo modello alternativo non è riuscito a costruirlo e ci vediamo perlomeno io vedo assisto comunque a una società che soffre enormemente di solitudine poi si è soli ovviamente anche in una famiglia per carità però è una solitudine secondo me è una solitudine alla fine diversa ma per come dire per fare uno scarto no su questo dibattito cioè passare dall'altra parte tu dicevi accennavi tutto questo è partito dal problema della denatalità cioè il nostro paese è un problema oggettivo ma la denatalità è un problema forte una società che non fa figli cioè io quando vado in pensione chi mi paga la pensione che cazzo ti prego è un problema enorme se tu non fai figli chi mi paga la pensione è un problema esistenziale cioè guardami devi procreare se no io devo andare fino sotto i ponti i ponti Isabella cosa del genere quindi insomma il problema della denatalità o comunque della vita che si trasmette è un problema sociale molto forte allora mentre la tua scelta cioè la tua scelta la scelta di una donna legittima e per carità assolutamente sarei estremamente retrogado a non sostenere questo ma lo sostengo davvero col cuore cioè che ognuno alla fine della propria vita deve fare veramente quello che vuole per seguire la sua idea di felicità o di realizzazione eccetera però è una scelta che ripeto è individuale cioè faccio fino faccio fino in ponta non ha come dire non ha delle conseguenze no e va bene perché è una ricerca individuale appunto della propria autorizzazione ma invece il problema secondo me in questo momento è più dall'altra parte cioè chi vuol fare figli in questo in questo momento una coppia giovane che vuole fare figli beh è una corsa a ostacoli infinita perché a meno che tu non sia appartiene a un centro sociale molto agiato allora lì non hai problemi di nessun genere ok ma se tu sei normale borghese madre e padre che lavorano fanno dei normali lavori e sappiamo che i giovani vengono pagati molto poco se ne parla ogni giorno sui giornali tutto questo ecco mettere al mondo un figlio due figli tre figli è un'esperienza al limite quasi del masochismo allora la domanda e anche c'è la domanda ma anche l'argomento di discussione che dando per scontato che il diritto all'autodeterminazione di una donna è fondamentale ma lo Stato dovrebbe prendersi la Stato la società dovrebbe prendersi carico del problema opposto cioè di chi i figli vuol fare e in queste condizioni è davvero un'esperienza estrema e lo Stato lo Stato può intervenire perché lo Stato lo Stato la comunità la società ha uno strumento estremamente importante che non è quello del sentimento che non è quello delle simpatie che non è quello della volontà è quello delle leggi è quello delle leggi quindi legiferare per aiutare chi vuole fare figli perché i figli in una società comunque sono importanti al di là delle scelte ecco e io sotto questo punto di vista sotto questo punto di vista vedo una società la società italiana estremamente latitante estremamente menefreghista e al di là delle parole comunque della destra no Dio patria famiglia figli eccetera eccetera che sono poi delle parole vuote perché chi è che sta aiutando davvero le giovani coppie che vogliono fare figli allora ecco questo mi sembra un problema importante mentre una donna che dice io non voglio fare figli benissimo non li fai ma se uno invece li vuol fare chi la aiuta? nessuno sono d'accordo con te però la voce di chi non vuole fare i figli secondo me ripeto per me non era una questione di rivendicazione a me importa niente però ti aiuta forse proprio a vedere il problema perché l'Italia in particolare detto che i figli non si fanno anche nei paesi dove le politiche familiari sono migliori di quelle italiane e quindi questo ci dice qualcosa del fatto che non è solo un problema ma un fatto socioculturale quello di cui stiamo parlando però io penso che la ragione profonda per cui le leggi non vengono fatte per aiutare chi in questo momento vuole dei figli è che la maternità la genitorialità ma la maternità in questo paese è ancora un fatto sacro demandato alla volontà e alla forza di abnegazione del singolo per cui non ti metto in condizione di fare una famiglia di fare un bambino perché tanto in fondo sei figlio di una cultura che ti ha insegnato che questa è la cosa più bella e importante che puoi fare e quindi la farai lo stesso ecco perché desacralizzarla la maternità come abbiamo fatto in questo libro non serve a chi non vuole fare i figli ma serve a chi li vuole fare in modo da credo istruire una richiesta diversa a chi ci governa e a chi ci amministra le ragazze di vent'anni con cui io parlo che vogliono dei figli Bruno e li vogliono davvero mi rispondono però che non sono più disposte a rinunciare a quello che già hanno che molto spesso è un lavoro per qualcosa che potrebbero avere e in questo io non ci vedo né individualismo né nichilismo ci vedo invece una risposta estremamente responsabile di contrapposizione anche rispetto a un paese che ti abbandona e il paese che ti abbandona è anche quel paese che dicevo prima no? in cui ci sono persone che vorrebbero un'idea collettiva e generativa di famiglia tu parlavi delle case dei nonni ma io vengo da un paesino dove la casa di nonno e nonna primo piano in una stradina era sempre aperta e quando io venivo parcheggiata dai miei genitori a casa di nonno e nonna io in quel momento diventavo la figlia di nonno nonna e di tutto il vicinato e in quel momento lì tutti avevano la responsabilità mia ora invece io ho visto progressivamente negli anni diminuire fino a sparire questa idea collettiva che è di responsabilità collettiva noi non ci sentiamo responsabili delle sorti di delle famiglie intorno a noi delle famiglie che potrebbero essere e così allo stesso modo neanche chi ci governa che in fondo è espressione del nostro meglio più spesso del nostro peggio però questo è lo farai lo stesso anche se non ti do una mano questo è cambiato rispetto a mia mamma che mi ha voluta anzi mia mamma non mi ha voluta mia mamma mi ha avuta e questa è una differenza e mi ha avuta in fondo perché lo doveva fare ci si aspettava che lo facesse e ci si aspettava che lo prendesse in carico aveva una società che lo aiutava un po' di più dei tempi diversi una mamma che la poteva aiutare io non ce l'avrei sono un emigrante in fondo no le nonne non entrano negli ospedali quello che è successo al Pertini ce lo dimostra donne sfinite completamente abbandonate a tenere a badare a bambini neonati che cosa ti dice questo qui anche ti dice oltre a questo che abbiamo detto fino a questo momento credo l'idea della mamma come wonder woman che da sola ce la fa a far tutto se è stato vero non è più vero ed è importante dire che non è più vero perché nessuno è più disposto a vivere soltanto i sacrifici le società del benessere sono o non sono quelle che ci consentono anche di cominciare a goderci la vita lo so che è brutto dirlo però forse dovremmo avere anche questa come ambizione no assolutamente no la cosa che hai detto della desacralizzazione della maternità secondo me è molto intelligente molto profondo perché questo poi è il nucleo centrale diciamo no desacralizzando si porta desacralizzare significa appunto no perché appunto sì ma tanto la madre c'è la retorica della madre ma anche anche in mezzo alle macerie è una esperienza meravigliosa esatto quindi quello del genere beh tu parlando adesso della mamma vabbè tua mamma forse ancora ancora però dicevi appunto la scelta tua mamma comunque quella generazione lì che poi non sapevi bene però dimentichi anche che fino appunto agli anni 50 cosa del genere la maternità o la paternità alla fine non esistevano gli anticoncezionali cioè a un certo punto i figli la vita andava avanti per quella roba lì cioè no perché facevano delle cosine quindi a un certo punto i figli nascevano quindi non è neanche poi una scelta cioè uno era pensava quelle altre cose no ecco invece per tornare al libro perché possiamo andare avanti aspetta ti posso interrompere mi permetti posso far ma certo un momento figliola perché bambino mio no perché mi viene in mente una cosa a proposito di questo io di cosa no di questa cosa che vi stai dicendo no del fare tanto i figli si possono fare ecco qualche settimana fa io vado ospite in una trasmissione pomeridiana della RAI che non nomineremo e naturalmente succede l'inevitabile cioè che mi mettono davanti a questa famiglia con otto figli vacca boia tra un estremo e l'altro tu ci servi a sdrammatizzare mi hai chiamato l'autore dico ok io poi per questo libro io sono innamorata pazza della cosa che abbiamo fatto ma non perché è mia perché penso che sia bello che esce un libro da un giornale per cui io vado ovunque prima o poi andrò pure da Cruciani quindi va bene vado e parlavo con questi otto ragazzini che mi dicevano quanto erano felici e io guardavo i filmati della casa dove stavano ed ero lì a balbettare queste robe altissime che ci stiamo dicendo io e te naturalmente a un certo punto la mamma di Ecuba la signora Ecuba mi guarda con sprezzo e mi dice ma certo che te non fai figli hai tutto sto tempo per pensare ora no calma no perché io ovviamente mi sono incazzata da morire ma sono stata buona mi sono ho pensato no perché volevo rispondere in difesa dicendo ma lei come si permette signora io non ho nessun tempo per pensare cosa vera ma poi apriremo un altro dibattito che poi facciamo un'altra volta invece le ho risposto sì guardi guardi sì è vero io ce l'ho un sacco di tempo per pensare e lo rivendico e penso che dovremmo rivendicarlo tutti dovremmo rivendicare tutti il tempo vuoto il tempo del vuoto il tempo del pensiero il tempo improduttivo ecco Bruno cosa è cambiato forse generazionalmente una cosa che credo che le donne gli uomini di questo tempo imparano stanno imparando a chiedere no a non essere per forza produttivi e soprattutto l'idea che nella vita le cose si fanno così tanto per senza pensarci non è vero insomma la signora ha fatto otto figli senza pensarci non mi sembrava così tanto no proprio un modello di vita e allora io avrei voluto poi non l'ho fatto ovviamente però mi ci sono interrogata molto se poi fare le cose sempre e comunque con inconsapevolezza per perpetrare un modello ci renda renda felici noi e ci dia ci renda utili alla collettività penso che visto che credo che dobbiamo essere utili alla collettività lo credo fermamente credo a un'idea proprio etica a volte moralistica della vita penso che siamo più utili se siamo individui felici che sanno bene cosa vogliono e che prima di scegliere pensano e si concedono il lusso di pensare a lungo scusami perché se no non sapevo dove metterla questa cosa ma ci temi no beh qui apriamo anche se poi millenni millenni di filosofia ci dicono che la felicità sta dalla parte opposta del pensiero anche leopardi ecco no però quello il tempo anche qui apriamo anche lì il tempo libero eccetera eccetera certamente se tu fai un figlio tempo libero ne hai veramente poco oppure se lavori lo sai bene no infatti no infatti no dicevo perché faceva l'esaltazione dell'ozio del tempo libero arriva arriva arrivi alle 6 e mezza al giornale la trovi lì che già sta ticchettando torni alle 2 perché dimentica 2 di notte e lei ancora lì che ticchetta ma sì cosa dici il tempo libero non esiste sta mentendo come la storia della maternità lei è una mamma nata quindi non ci credo non dovete credere a una sola parola no invece per tornare a questo libro ecco alle protagoniste per parlare anche un po' del libro giusto cioè posso e sì facciamo facciamola sappi che mi ha insegnato una cosa mia mamma mi ha insegnato una canzone bellissima che quando sono triste su Spotify me la ascolto e vai e vai ok beh poi devi cantare comunque no ecco per parlare un attimo di questo libro ecco qui ci sono tantissime tantissime voci tantissime scrittrici anche molto molto brave eccetera eccetera ecco se tu vuoi volessi fare non so una radiografia ecco dal punto di vista proprio della scrittura degli interventi come la definiresti questo libro e queste voci che appunto è una polifonia ognuno ha una sua gradazione però in qualche modo una domanda difficilissima sì provaci Stella Stella Stai esatto su di me questa notte è un SOS che mi dà brividi no allora la canzone Stella Stai di Umberto Totti non la canteremo che me l'ha insegnata sì esatto ogni tanto ma anche Bad Romance la figata assoluta non conosceva Bad Romance di Lady Gaga l'ha scoperta l'altro giorno i millennials servono a questo non fanno figli ma mi fanno scopertare Lady Gaga grandi playlist sti cazzi no film ma grandi playlist è un bel titolo esatto è il prossimo no allora io non la so definire non so definirla so questo che è un libro che ha il merito perché poi non tutto quello che abbiamo pubblicato sul giornale è uscito sul libro e alcuni interventi usciti sul libro invece sono inediti nel senso che non erano usciti sul giornale e io li ho cercati quelli che ho cercato sono quelli dei papà e su questo dovremmo aprire anche una questione perché tu l'hai sfiorata ed è vero ai papà devi proprio andare a citofonare non solo li devi chiamare per dirgli parlate di questo tema li devi insistere perché i papà non si sentono titolati a parlare di questa cosa e questa è una responsabilità credo delle mamme è così ti fanno sentire che la questione non la capisci ve lo dice una che viene da una famiglia dove la voce del nonno non si sentiva un po' come la voce di Draghi avete presente che tutti quanti ci siamo accorti che voce aveva quando si è dimesso più o meno ecco quando ha lasciato io ho sentito la voce di mio nonno proprio alla fine della sua vita perché per il resto parlava mia nonna perché tanto lui non capiva ecco i papà risentono un po' di questo e poi è vero che culturalmente risentiamo ci rispondo alla tua domanda giuro ci provo culturalmente secondo me soffrono molto questo fatto qua che racconta molto bene Bonvissuto Sandro Bonvissuto che è uno degli scrittori che troverete nell'antologia lui dice della mamma veniamo educati a non liberarci mai e invece crescere significa fare il parricidio cioè a un certo punto tu diventi adulto se ti metti alle spalle tuo padre e questa è una cosa che ha un peso anche nella capacità di sentirsi coinvolti dei padri ed è questa la cosa che chiedono i padri invece di di superare sempre con con grande pudore che è un pudore che poi ovviamente come tutti i pudori dà alla letteratura margini magnifici infatti per quanto mi riguarda i pezzi dei papà sono quelli più affascinanti dentro questo libro io non lo so è un libro che pur mettendo insieme voci molto diverse ha questa virtù dipende da me ed è un caso ma di non risultare contraddittorio mai sono voci che si alternano e che si e che creano una bellissima sinergia e che pur facendo tremare le cose mettendo molti dubbi secondo me non creano confusione davvero non è merito mio io soltanto mi sono come dire divertita a scegliere quelli più semplicemente belli perché quando poi mi chiedono come hai fatto a sceglierli io ho adottato una tecnica un po' crudele forse mi dispiace dirlo però ho scelto quelli scritti meglio perché quelli scritti meglio erano quelli più scusatemi quelli più chiari credo che sia se lo dobbiamo definire non tanto un libro sulla maternità certo sì parla di maternità ma il suo punto è la fotografia di questa festa mobile che è attualmente il discorso su libertà e desiderio sì sì no io riflettevo su questo appunto il parricidio è vero io ovviamente posso riflettere solo dal punto di vista della paternità che anche questo fa parte diciamo della nostra cultura occidentale greco occidentale ebraico greco occidentale cioè non a caso Edipo è un mito fondante della nostra cioè di quello che insomma ammazza ammazza il padre poi va con la madre però insomma la figura fondamentale è l'uccisione del padre ma al di là di questo ecco noi cresciamo con l'idea che diventare grandi significa uccidere il padre prendere distanza e mentre dalla madre non ci si libera mai nel bene e nel male ma io credo che questo sia guarda sto andando a ruota libera qua non c'entra più niente il libro oggi chiacchieravo con un con un signore più o meno della mia età insomma che ha preso una grande azienda familiare no e chiedevo non faccio il nome eccetera eccetera ma chiedevo qual è l'elemento di continuità dice no ho dovuto cambiare molte cose eccetera eccetera ma il punto fondamentale che lui ha preso in mano questa azienda estromettendo il padre no quindi commettendo anche lì un parricidio simbolico allora io credo che il problema di questo di questo parricidio sia un problema poi quasi cos'era una protesta speriamo cos'è sul parricidio no adesso mi sento in colpa ho detto una cosa che non dovevo dire la voce dell'aldilà no e che la cavoia spavento e ho sentito no no voci dei defunti dei padri ammazzati è vero bastardi figli no dicevo che è una estremizzando eccetera eccetera è una cosa molto diciamo capitalistica cioè della nostra società capitalistica a me piaceva molto l'antropologia culturale insomma questi modelli anche forse poi in realtà forse utopisti eccetera eccetera ma quello che tu avevi nelle vecchie civiltà diciamo primitive tra virgolette per esempio gli indiani d'America ma anche gli indios dell'amazzonia di Levi-Strossi Bororo eccetera eccetera che non c'era il parricidio c'era il rito di iniziazione che ti faceva diventare adulto cioè tu passavi maschio o femmina poi ti dividevi a seconda diciamo della cultura tu passavi dalla dimensione di picco di bambino eccetera eccetera alla dimensione di adulto e nel momento in cui tu diventavi adulto non uccidevi tuo padre ma diventavi un cooperante di tuo padre cioè andavi a cacciare il bisonte insieme a tuo padre e agli altri maschi della tribù perché ci si muoveva tutti insieme tutti insieme maschi verso un unico obiettivo che era la caccia al bisonte che era la caccia l'anaconda che era la pesca del salmone quello che vuoi eccetera eccetera questo per dire che questa dimensione appunto culturale nella quale viviamo noi e questa uccisione simbolica del padre che noi siamo costretti a fare continuamente è frutto anche questo di una civiltà quella capitalistica dell'occidente che ha esaltato anche qui il ruolo della solitudine e non quella della comunità ha portato la competizione ha portato l'atomismo perché questo è il senso adesso non voglio fare discorsi socialisti è vero ed essere tra l'altro tutti uguali adeguandosi a un ruolo e significava dare sempre le stesse cose esatto cioè questo è il grande problema allora io non voglio è chiaro che non possiamo tornare a essere con gli archi e le frecce andare a caccia di bisonti sarebbe fighissimo sarebbe bellissimo come balla con i lupi Bruno sarebbe fighissimo due calzini lo so fa un culo la riunione delle undici con i nostri archi abbiamo dei problemi con la riunione con gli archi a caccia ma che meraviglia gli ultimi bisonti qualcosa forse un po' più esotico i cinghiali è pieno i cinghiali tutti e collaboriamo maschio e femmina figli non figli sai che maschio e femmina è il problema enorme enorme gigantesco però ecco quello è insomma è il grande problema cioè di una società che si è ripiegata volente o nolente sull'individualità sull'individualismo allora è chiaro che quando tu hai tanti individui poi separati ognuno persegue il proprio obiettivo ognuno persegue le proprie nevrosi i propri complessi le proprie fragilità eccetera e non ne vieni più fuori cioè io penso che la psicanalisi in una tenda dei SIU non aveva senso cioè no credo non lo so poi magari anche lì c'era il complesso di Edipo non lo so ma non credo che non avesse senso come poteve insomma non lo so vabbè ok comunque ho le idee confuse come ogni padre no allora ecco questo che tu mi stai dicendo però no aspetta in verità Bruno è magnifico perché i voli pindari ci sono stupendi però il problema che pone un problema di tempo e di evoluzione è chiaro che ecco io non sono così convinta che il mondo che abbiamo sia per forza il migliore dei mondi possibili no che questa idea deterministica della storia Elsa Morante ci ha proprio insegnato il contrario no che la storia è sfacelo io non lo so se possiamo tornare indietro la tenda dei suits però penso che alcune istanze di cui abbiamo discusso stasera ci dicono senza dubbio che l'evoluzione l'abbiamo costruita con criteri sbagliati o valutata valutata con criteri sbagliati certo che cambiarli è un po' problematico perché ci siamo tutti quanti io sono affezionata alla mia famiglia di Ferrandina tu sei affezionato alla tenda alla caccia credo però che invece questo momento di individualismo forse ci serve a dimettere tutti i ruoli che ci sono stati imposti e che abbiamo sposato più o meno volontariamente e restare nudi ci serve a scegliere nuovi vestiti quindi questo sta senz'altro succedendo e questa idea del tempo che è così diverso e lascia impronte così diverse nelle persone in quello che desiderano e riescono a costruire forse è un pregio di questo libro perché nel libro il libro è un'antologia quindi ha voci diverse ma ci sono generazioni diverse a me ha fatto molta impressione vedere proprio questa curva allora le donne di 50 anni tra i 50 e i 60 che parlano della maternità come ne parla mia madre del parto ma si tesoro una cosa un po' più dolorosa di un crampo mestruale no questo è qua che per fare i figli era la cosa più semplice del mondo poi arriviamo noi che mentalizziamo tutto e che però abbiamo dei dubbi e poi invece le donne di 20 anni c'è questo intervento di Giorgia Soleri che ti dicono assolutamente no e non è solo la perentorietà dei 20 anni è qualcosa di diverso no è proprio una presa di posizione diversa so che non li voglio e giustamente non mi puoi dire che non è vero soltanto perché ho 20 anni e non cambierò idea quindi io questo per dirti che è quello che dicevo prima poi alla fine hai voglia a dire che ci ci togliamo di dosso le nostre sovrastrutture ereditate e siamo liberi e c'è soltanto la nostra volontà e il nostro desiderio in realtà tutti sono figli del loro tempo nessuno mi toglierà mai dalla testa il dubbio che tutto quello che vi ho detto stasera non fa solo parte diciamo delle mie volontà e del mio desiderio di quello che io ho scoperto facendo lavoro su se stesso ma è in verità indotto credo che anche questa nuova libertà che io mi prendo di dire i figli che non voglio e non li voglio pur potendoli avere in realtà è qualcosa che mi viene come dire spinto nel cuore da questo tempo qui ma io sono anche contenta di essere un prodotto artificiale e forse qua dentro questo si vede no? non c'è nessuna donna che briga contro un tempo o qualcosa che ha ereditato o assimilato però ci sono persone che fanno come dire i conti con quello che hanno che fanno con quello che hanno nella consapevolezza che in parte l'hanno scelto in parte lo hanno in parte è stata una scelta di accondiscendenza comunque secondo me la cosa bella delle convinzioni è che si possono sempre cambiare si può sempre cambiare idea tu pensi che cambierà idea su questo punto e che cosa te la farà cambiare questa è una domanda difficile è difficile Bruno perché non vorrei che fosse è solo la mia ho sempre paura di parlare a nome di 28 persone no? che sono quelle o di una voce di essere la voce di questo tempo io non lo so perché io rivendico questa cosa di non dover decidere chissà fino a quanto a quanto durerà questo privilegio questo lusso che mi concedo perché tu puoi pensare esatto perché io posso pensare è vero ma io penso anche che dobbiamo cominciare ad ammettere i privilegi quando ce li abbiamo e goderceli e usarli in modo intelligente io cambierò idea probabile cambio idea in continuazione però so che io questa cosa qui non la sento e ho voluto raccontare che cosa significa non sentirla e se cambierò idea sarà come le cose migliori nella vita per caso ok di fatti poi ecco posso dire perché è un altro tema importante che in questo libro c'è se io potessi adottare da single forse sarebbe diverso forse in prima fila accanto alla nostra collega Betty ci sarebbe mia figlia perché la 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 genitorialità cioè essere genitore di un figlio che io posso adottare non vivendo all'interno di una famiglia tradizionale ecco questa è una cosa che accoglierei e questo è l'altro problema di questo paese che ti chiede di fare figli ma ti dice come li devi fare e e no e invece io sono convinta sì sì no certo no scusa scusa sono convinta che dobbiamo con pragmatismo guardare il fatto che le famiglie si possono fare in modi diversi che esistono genitori diversi che esistono anche bambini cresciuti felicemente da un solo genitore sono sempre sono sempre esistiti su questo c'è un pezzo bellissimo di Carlotta Vagnoli che dice delle cose che un po' ti disturbano come Vagnoli è sempre un po' disturbante ma viva Dio quando esistono ancora gli scrittori che ti disturbano e lei dice io sono se divento madre non significa che devo diventare madre per rendere padre un uomo divento madre perché divento madre e come mai la maternità e la paternità le abbiamo sempre pensate come qualcosa di collettivo e cioè a due in realtà poi questa collettività è molto stretta perché invece noi riusciamo a pensare che una madre o un padre possano crescere un bambino circondato da una comunità affettiva sì ok non t'ho convinto no per niente stella stai ma per niente stella stai stime ma per niente perché lì sotto sotto dici perché vedi vorrei io e la mia figlia ma c'è sempre l'idea dell'uccisione del maschio cioè alla fine no cioè gratta gratta questa cosa no allora sì è chiaro che tu puoi costruire la maternità la paternità in tutti i modi che vuoi per carità io sono la libertà più somma l'elasticità eccetera eccetera però fare le cose in due è sempre più bello cioè è la stessa differenza che c'è tra tra accoppiarsi e l'onanismo ecco cioè è sempre per restare Woody Allen ti darebbe torto Woody Allen ti darebbe torto sì però guarda che fine ha fatto Woody Allen ho capito ma questo per colpa della cancer che non si può più dire niente no io penso certo ripeto tutto puoi costruire ognuno ha il diritto di adottare però fare cose in due due esseri radicalmente diversi perché tu sai quanto sei diversa da me no come genere ecco questa diversità di genere che alla fine si mettono insieme e costruiscono ma non un figlio ripeto non la retorica della materia perché questa è una grandissima stupidaggine ed è la grande ed è la grande e del grande stima no della nostra cultura che noi ci portiamo dietro quindi per carità nulla di tutto questo però fare le cose in due è sempre più divertente secondo me non lo so non lo so intanto non ci dobbiamo convincere a vicenda no no ma posso neanche fare un figlio no quello Bruno ma perché no possiamo adottare questa fluidità questa fluidità troviamo anche la roba di grazie a tutti Grazie a tutti